Allora, buongiorno a tutti. Io sono il direttore della scuola normale. Non ho potuto resistere oggi al piacere di introdurre, anche se non ce n'era ovviamente nessun bisogno, il professor Settis. Però, diciamo, questi sono tra le cose piacevoli che sono connesse alla carica che ricopro. Non sono tutte piacevoli, ma questa lo è sicuramente. Per cui lo ringrazio molto intanto di aver accettato di fare questa presentazione. Aggiungo che l'iniziativa dei lincei per la scuola presso la scuola normale sta diventando, soprattutto grazie alla coordinatrice che si è nascosta in seconda fila, ma che c'è, che è la professoressa Barsacchi, a cui ho chiesto e accettato gentilmente di permettermi di presentare io il professor Settis per motivi di scuola, soprattutto grazie a lei, ma anche grazie all'intervento di molti colleghi della scuola, è diventata un'iniziativa, secondo me, molto importante e di riferimento anche a livello nazionale. Il numero di discipline che contribuiscono a questa iniziativa sta crescendo. Parti dalla biologia e la matematica, si sono aggiunte la chimica, quest'anno avremo, e la letteratura italiana che c'è praticamente da sempre, abbiamo avuto quest'anno contributi di archeologia, filosofia, latino e greco, direi. La biologia, come ho detto, già era già e stiamo crescendo sempre di più. Questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, ho cercato di contribuire anche prima di fare il direttore dal lato, io sono un chimico, dal lato della chimica e quindi ci teniamo moltissimo, è una delle iniziative a cui la scuola crede molto e poi sono ulteriormente rafforzate dal fatto che riusciamo a proporre interventi e contributi di altissimo livello, uno dei quali è quello di oggi e quindi non vi faccio perdere ulteriore tempo e cedo senz'altro la parola al professor Settis che ringrazio ancora di aver accettato di farci questa presentazione. Grazie Salvatore. Grazie a te Enzo, grazie mille. Grazie mille. Si può dare a pieno schermo l'immagine? Bene, allora il titolo lo vedete lì, vorrei essere sicuro che mi sentiate, sono molto contento naturalmente di parlare qui, di parlare a voi e vorrei spiegare perché ho scelto questo tema, perché permette di parlare, diciamo trasversalmente, quasi senza volerlo, di alcune cose. Permette di parlare di arte antica, perché Laoconte è un'opera antica, e di rinascimento, perché Laoconte è stato scoperto nel 1506, permette di parlare di un'opera d'arte molto importante, ma permette di parlare anche di come questa opera d'arte è stata vista ed è stata recepita nel 500 da vari artisti, da varie persone, papi, cardinali, poeti, eccetera, eccetera, in Italia. E permette di parlare anche, ultimo punto di questo svelto elenco che vi sto facendo, permette di parlare anche del rapporto con un'opera d'arte antica trovata a Roma, degli italiani e dei non italiani. Una delle domande che io vi proporrò è questa. Laoconte è oggi ai Musei Vaticani, come tutti sapete, una delle opere più famose dell'arte europea. Due sono le fasi capitali della sua storia. La prima nell'antichità, quando fu fatta, e la cronologia che io vi propongo qui è quella al 40-20 a.C., che ritengo certa, e poco dopo cade l'unica menzione nelle fonti classiche dovuta a Plinio il Vecchio, un secolo dopo, la seconda fase, invece, comincia con la sua riscoperta nel 1506 e continua fino ad oggi. Due domande vi metterò oggi sul tavolo. Una riguarda il rapporto fra tre aspetti della fortuna dell'Aocoonte. Il pathos, che questa statua esprime, il Laocoonte come sintomo di un orizzonte stilistico, di un orizzonte culturale, e infine l'espressione. Il Laocoonte come espressione di sentimenti. Il Laocoonte come narrazione altamente patetica di un episodio del mito antico, che è noto da Virgilio, soprattutto nel secondo libro delle Neide, come tutti saprete. Il Laocoonte come sintomo di una tendenza stilistica. Infine, il Laocoonte come, usiamo questa parola, condensazione espressiva o icona di un sentimento di uno stato dell'anima. Con questa si intreccia la mia seconda domanda. Dato che quest'opera fu realizzata da artisti greci, i loro nomi sono sullo schermo e non li ripeto, artisti greci che operavano in Italia e che dalla riscoperta in poi è sempre rimasta a Roma, salvo i pochi anni in cui Napoleone se la portò via a Parigi per poi doverla restituire, Il fatto che sia sempre rimasta a Roma, praticamente dalla sua creazione fino ad oggi, vuol dire che gli italiani, gli artisti italiani, hanno avuto un rapporto migliore, privilegiato rispetto agli artisti che so io, danesi o francesi o tedeschi. Queste sono le domande di cui vi parlerò. Tanto la storia o il mito di Laocoonte, quanto le sue varie rappresentazioni, perché questa non è l'unica, il mito di Laocoonte fu rappresentato in basi greci e in altre opere d'arte antica, questa però è di gran lunga la più famosa rappresentazione, tutte le sue rappresentazioni si muovono in una spola continua fra la narrazione e la forma, oppure, diciamolo diversamente, fra l'espressione e l'icona. Proverò a mostrare come la forma usata per narrare il racconto mitico sulla Laocoonte, che come tutti sappiamo è parte del ciclo della guerra di Troia, può essere adoperata anche per esprimere qualcosa di completamente diverso, un altro pathos, per esempio la passione di Cristo, un altro sentimento, per esempio la passione erotica. Parleremo anche di questo. Non inseguirò tutte le fila di questo discorso, vorrei solo darvi un esempio, una specie di spaccato. La straordinaria efficacia espressiva della Laocoonte ne ha fatto, io credo, un filo conduttore, un filo rosso che passa attraverso tutta la storia dell'arte europea. Nei termini di un grande studioso di storia della cultura e dell'arte del Novecento, del tardo Ottocento, del Novecento, Warburg, il gesto di Laocoonte, che vediamo il gesto ma anche la sua mimica facciale, sono una formula di pathos, pathos formel, nella terminologia di Warburg. Infatti Warburg dedicò a Laocoonte una delle tavole del suo famoso atlante delle espressioni e della cultura europea che si chiamava Mnemossune e che è stato recentemente, di cui esistono varie versioni e di cui sono state fatte negli ultimi anni svariate edizioni. In uno studio del 1905 Warburg scrive così Il gruppo dei dolori di Laocoonte, il rinascimento, se non lo avesse scoperto, avrebbe dovuto inventarlo, proprio a causa della sua sconvolgente eloquenza patetica. Esso non fu soltanto una delle cause dello stile barocco romano del grande gesto ma il sintomo esterno di un processo storico-stilistico che trova in se stesso la propria logica. Cioè il rinascimento senza Laocoonte, il rinascimento del barocco senza Laocoonte non sono pensabili, se non l'avessero per caso scoperto avrebbero dovuto inventarlo. Non so come avrebbero fatto, però l'espressione di Warburg mi pare abbastanza interessante. Warburg aveva in mente qui una pagina di Burkhardt, grande erudito che era una delle sue letture preferite. Secondo Burkhardt, in realtà Laocoonte era stato già scoperto prima, prima del 1506, prima della sua scoperta classica. Lui si rifaceva a una lettera del 1489 scritta da un tal Luigi Lotti da Barberino, di cui non mi aspetto che voi conosciate l'esistenza, a Lorenzo il Magnifico, di cui invece tutti sappiamo chi è. Questo signore di Barberino scrive a Lorenzo il Magnifico che in una notte, in uno scavo notturno, in uno scavo clandestino a Roma, nell'area di San Lorenzo in Panisperna, cito, furono trovati tre belli faunetti in su una basetta di marmo, cinti tutti e tre, da una grande serpe, i quali, meo iudicio, sono bellissimi, e tali che, del udire la voce in fuora, in ceteris, pare, spirino, gridino e si fendino, con gesti mirabili. Allora, questa lettera e un'altra che fu scoperta poco dopo furono interpretate come una specie di prima scoperta dell'Aucoonte o, alternativa, una scoperta di una versione più piccola dell'Aucoonte. Invece, si è ormai dimostrato che queste lettere si riferiscono in realtà a questo gruppo di tre belli faunetti, questo gruppo che ha una storia molto complicata e che però è sicuramente quello offerto in vendita a Lorenzo il Magnifico, non sappiamo se lo abbia poi veramente acquistato, quello che è certo è che è riemesso in una casa d'aste di New York pochi anni fa, in cui era inizialmente valutato 300 mila dollari, poi quando è venuto fuori, che poteva essere stato nella collezione di Lorenzo il Magnifico, è stato comprato per 3 milioni e mezzo di dollari, perché basta il nome di Lorenzo il Magnifico per attribuire valore, ora si trova in proprietà privata, ma si trova esposto a Art Institute a Chicago. Il sintomo che l'Aucoonte portò sulla scena romana non era però forse solo, come dice Warburg, il grande stile romano del gesto espressivo che doveva ancora nascere. Dobbiamo chiederci invece se nella sua immediata fortuna non vi fosse anche un altro ingrediente non italiano, questo, dell'arte europea del Rinascimento, e cioè una forte espressività nordica. Il laucoonte, possiamo chiamarlo, adattando un'espressione della pietà cristiana, un pater dolorosus, un padre che è addolorato per la morte dei suoi figli. Questa forte espressività del pater dolorosus andava probabilmente a innestarsi su una tradizione tutta nordica, che è evidente, mi pare, nel disegno che vedete alla vostra sinistra, di Dürer, disegno che è anteriore di tre anni alla scoperta dell'Aucoonte. Prima di scoprire, se io vi dicessi che Dürer l'ha fatto davanti all'Aucoonte, forse mi credereste, ma non è vero, è anteriore alla scoperta dell'Aucoonte. Dunque, davvero, se il l'Aucoonte, se non si fosse scoperto, si sarebbe dovuto inventare, ma forse si sarebbe dovuto inventare più a Norimberga che a Roma. Dobbiamo tenere conto di questa dimensione europea dell'arte. Questo disegno fu fatto da Dürer, ci sono delle iscrizioni a Carboncino, la scritta e la firma sono autografe, c'è una, è al British Museum, è stato studiato molto accuratamente, la scritta a Carboncino, che vedete in basso, dice che egli disegnò questo volto dolorante quando era malato, in minor crank height, nella mia malattia. Quindi lui, nel momento in cui è malato, disegna un Cristo doloroso e si identifica il proprio dolore di persona, di essere umano, prima che di artista, col dolore di l'Aucoonte. Il l'Aucoonte presenta, nella violenta concentrazione del volto, tratti iconici che si prestano a essere memorizzati. Anche per questo è molto attraente l'ipotesi di Dal Poggetto che questo l'Aucoonte, che vedete qui a destra, questa testa di l'Aucoonte, disegnata nella sacrestia sotto San Lorenzo, a Firenze, si è stata disegnata a memoria da Michelangelo, prigioniero in quel momento, perché se fosse venuto fuori, lui essendo stato favorevole al partito anti-Medice, occorreva seri rischi di essere imprigionato e forse anche ucciso. Certamente, chiunque abbia disegnato questo volto di l'Aucoonte, che sia Michelangelo o no, sotto nella sacrestia di San Lorenzo, sicuramente non aveva di fronte la statua, perché la statua era a Roma. Questo fa venire in mente un bellissimo aneddoto su Annibale Carracci, raccontato da Giovanni Battista a Gucchi, nel 1646. E vi leggo questo passo molto bello, in cui parla dei Carracci, e in particolare del rapporto fra Annibale e il fratello, altro grande pittore, ma meno grande di Annibale, Agostino Carracci. Discorrendo Agostino, con molti virtuosi del gran sapere mostrato dalle statue antiche, e fermatosi a celebrare, specialmente il l'Aucoonte, avrebbe voluto che Annibale ancora alcuna cosa ne avesse detta. E cerca di dire al fratello, ma di qualcosa anche tu di sto l'Aucoonte. Fratello, zitto. Fratello non parla. E allora Agostino lo derise, deplorando che su una statua così eccellente non avesse nulla da dire. Possiamo immaginare che Agostino continua a parlare, chiacchiera, chiacchiera. Senonché Annibale, non visto, si accostò al muro della stanza, e senza che nieno se ne avvedesse, vi disegnò con un carbone la figura dell'Aucoonte. Egli venne così fedelmente espressa, come avesse avuto davanti agli occhi l'originale, per farne un aggiustatissimo contorno. Quando Agostino se ne accorge, mortificato, deve ammettere che il fratello sapeva di l'Aucoonte molto più di lui. Queste cose, molto prima della scoperta di l'Aucoonte, e molto dopo, credo che ci dicano qualcosa di che cosa questa statua può aver rappresentato. Un grande storico dell'arte tedesco, che per ragioni razziali fuggì dalla Germania, insegnò poi in America, Leopold Ettlinger, ha scritto un famoso studio che è intitolato Exemplum Doloris, il l'Aucoonte, come esempio paradigmatico del dolore. Ma, chiediamoci, questa definizione così indovinata si riferisce alla storia di l'Aucoonte raccontata da Virgilio o si riferisce a l'Aucoonte alla statua, così come noi la vediamo. C'è dunque, c'è, formulo questa domanda, non per rispondere, perché non saprei rispondere, ma per dire che ci sono due diversi modi di affrontare questo problema. C'è un destino, per così dire, iconico e morfologico dell'Aucoonte, la forma dell'Aucoonte, e un destino invece narrativo relativo al suo racconto mitico. La forte accentuazione espressiva e il pathos sovraccarico di queste figure sono sintomi stilistici per noi preziosi che dobbiamo giudicare in primo luogo nel quadro dell'arte romana del I secolo a.C., quando questi artisti, venuti da Rodi, in una bottega, certamente a Roma, produssero questa scultura. E l'arte romana nel periodo, ricordiamoci, le coordinate storiche fra Cesare e Augusto. In quei decenni non erano soli a Gesandro, Tanodoro e Polidoro da Rodi, non erano i soli scultori greci che operavano a Roma. Ce ne erano altri, per esempio, Passi Teles, di cui non abbiamo nulla, ma abbiamo delle opere dei suoi allievi, e ve le sto mostrando accanto all'Aucoonte. Passi Teles, sappiamo che veniva dall'Italia meridionale greca e che però aveva, se guardate le statue dei suoi allievi, Stefano e Menelao, che sono qui sulla destra rispetto al Aucoonte, vedete quanta differenza c'è rispetto allo stile di Aucoonte. Vediamo qui che gli artisti greci a Roma rappresentano due opposti linguaggi stilistici che convivono nella stessa città. Poi, quello che avrebbe trionfato, che avrebbe vinto, è il linguaggio più classicistico, più asciutto, più sofisticato, per così dire, e anche più eclettico di Passi Teles, che si sarebbe poi tradotto nell'arte augustea. Mentre l'Aucoonte rappresentava invece una forte retorica delle passioni, una forte retorica delle passioni che è il contrario della linea così asciutta, così sobria rappresentata da Passi Teles e dei suoi discepoli Stefano e Menelao. Per quanto possa sembrarci strano, le sculture che vediamo ora sullo schermo sono contemporanee. Sono contemporanee e sono di artisti greci che vivono a Roma contemporaneamente. Per i romani di quel tempo l'espressività dell'Aucoonte doveva dunque risaltarne ancora più vivacemente come un'opzione, una possibilità espressiva e stilistica che non era certo la sola possibile. Il L'Aucoonte in quel contesto fu una grande creazione originale. E' importante ricordarsi che in un'arte come quella antica in cui le opere più famose venivano ripetutamente copiate, ci sono decine di dorifori, decine di discoboli, eccetera, dell'Aucoonte non esiste nessuna copia antica, neanche di un dito. Questa statua, questo gruppo per meglio dire perché le figure sono tre oltre ai serpenti fu opera di maestri che tentavano di importare a Roma il grande linguaggio per così dire barocco delle passioni già sperimentato nell'area di Pergamo di cui vediamo a sinistra un famoso dettaglio. Aristotele nell'arte poetica elencava la presentazione di personaggi morti, feriti o doloranti come artifici per suscitare pathos sulla scena della tragedia e indurre a commozione gli spettatori. Questa lezione si trasferì dalla tragedia alla storiografia e la cosiddetta storiografia tragica dell'ellenismo che insisteva sul crudele destino dei vinti con una vivezza che poi i retori greci codificarono definendola con una parola greca enargeia che vuol dire la vivacità della rappresentazione evidenzia in narrazione traducono i retori latini. Insomma l'arte di suscitare un effetto di verità mediante il dolore. Plutarco descrivendo una scena di battaglia dice bisogna per descrivere bene una scena di battaglia gettare davanti agli occhi scene terribili. A maggior ragione l'insistenza sui vinti e sulle loro sciagure trovò un posto privilegiato nell'arte ellenistica a partire da Pergamo e si traduce poi nell'arte romana fino ad arrivare per esempio alla colonna traiana. Il classicismo augusteo di cui le statue di Pasitelles e dei suoi allievi che abbiamo visto prima rappresentano una anticipazione il classicismo augusteo mise in ombra questa corrente stilistica. Dobbiamo dunque pensare per capire per memorizzare bene questa storia che così come Pompeo paladino della cultura ellenistica perse la battaglia con Cesare Pasitelles perse la battaglia con gli scultori di Rodi che operavano a Roma e che probabilmente con cui probabilmente si erano anche incontrati per le strade di Roma. Insomma Atanodoro e i suoi due compagni scultori dell'Aocoonte dobbiamo metterli con i grandi sconfitti di quell'età come Pompeo e Marco Antonio e nell'Aocoonte dobbiamo riconoscere una linea perdente ma non assente che cercava di portare a Roma il grande linguaggio di Pergamo. Passiamo ora alla scoperta della statua. Avvene a Roma nel gennaio 2506 il 14 gennaio a quel che pare ma una scoperta archivistica recente anticiperebbe la scoperta di quattro giorni al 10 gennaio di quell'anno. Secondo un'altra ricerca di archivio il luogo preciso della scoperta sarebbe questo che vi sto mostrando che vi sto mostrando e tutti citano per ricordare questa scoperta il vivace racconto di Francesco da Sangallo che dice così Io era di pochi anni la prima volta che io fui a Roma che fu detto al Papa che in una vigna presso la Santa Maria Maggiore si erano trovato certe statue molto belle e il Papa comandò a un palafreniere va e dia Giuliano da Sangallo che subito la vadi a vedere quindi Francesco da Sangallo presenta il padre come la persona più fidata al Papa cosa di cui ci sono mille ragioni per dubitare e perché Michelangelo Buonarroti si trovava continuamente in casa e quindi lui così fa scivolare il fatto che Michelangelo e suo padre erano come dire si frequentavano in continuazione mio padre volle che ancora lui andasse cioè non è che è Michelangelo che vuole andare è il papà di Francesco che dice Michelangelo viene e dice vabbè verrò e così io in groppa a mio padre e andammo e scesi dove erano le statue e subito mio padre disse quello è Laoconte che fa menzione Plinio cioè tutto il merito del papà io non credo che i miei figli mai mi riconoscerebbero qualsivoglia merito nemmeno questo nell'ipotesi che io avessi cose del genere però erano altri tempi però non possiamo accontentarci di questo racconto scritto da Francesco da Sangallo 60 anni post factum è lecito dubitare che sia stato davvero Giuliano da Sangallo occorreva una grande cultura figurativa una grande cultura classica occorreva sapere Plinio a memoria per poter riconoscere questa cosa qui quindi è molto improbabile che questo racconto è il più citato però ci sono io qualche anno fa nel 2000 ho pubblicato un piccolo libro sull'Oconte di cui fa parte anche una raccolta delle fonti contemporanee fatta molto bene da Sonia Maffei e da lì risultano svariate altre lettere molto più vicine all'evento perché a pochi giorni di distanza dalla scoperta c'è già qualcuno che scrive cose di questo genere ve ne leggo solo una il 24 gennaio del 1506 dieci giorni dopo la scoperta la data è il 14 gennaio Bonsignore Bonsignori oscuro ecclesiastico fiorentino così scrive a questi giorni fu trovata una scultura antica bellissima di marmo cosa più nobile che avessino gli romani in quelli tempi e di che fanno menzione Virgilio e Plinio Virgilio non menziona la statua racconta la storia cioè un laoconta con gli figli e con gli serpenti tutto come pone Virgilio in secondo Eneados e qui vuol mostrare che è colto e sebbene ho a mente Plinio dice talcossa essere nella casa di Severo ovvero d'Antonino Pio Plinio non dice questo Plinio dice ed è l'unica menzione della statua di Laoconte in tutta la letteratura antica Plinio dice che era nella statua in domo titi imperatoris quindi questa citazione a me sembra molto più attendibile proprio perché è piena di sbagli perché è una citazione fatta a memoria e quindi è chiaro che questo signore o qualcuno che era presente quando lui è andato lì veramente ha cominciato hanno visto questa statua questo dà un'idea di quanto fosse diffusa la cultura classica la cultura antiquaria letteraria eccetera al principio del Cinquecento uno va lì vede questa statua e dice ma quello Virginio no Plinio era nella casa di quell'imperatore non nella casa di quell'altro cioè si intravede qui un grande discorso capiamo così come mai fino all'Ottocento si potesse rappresentare l'arrivo di Laocoonte in Vaticano come un trionfo della scultura come questo oscuro quadro di un oscuro pittore ottocentesco che si trova a Trieste gli artisti italiani cominciarono a studiare assiduamente il Laocoonte il disegno che vedete in basso è il più antico quello che vedete in alto è un disegno di Federico Zuccari che mostra altri due fratelli artisti che mostra il fratello Taddeo mentre disegna il Laocoonte quando era già nei palazzi apostolici lo aveva Giulio II che non 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 sopportava di non essere di non essere ubbidito non soffre opposizioni dice Don Giovanni di Lorenzo da Ponte e di Mozart ma Giulio II non soffriva opposizioni soffriva opposizioni ancor meno Giulio II impone che vada immediatamente nelle sue collezioni perché era troppo importante dunque dalla Domus Titi Imperatoris alla dimora del Papa con un destino tanto nobile non potevano mancare alla Laocoonte gli elogi le descrizioni i commenti di eruditi e poeti e ce ne sono moltissime nella Biblioteca Vaticana c'è anche un manoscritto che raccoglie sonetti e poesie in italiano e in latino sul Laocoonte la lettura dei contemporanei fu fatta in termini di espressione del pathos o di grammatica degli affetti il più famoso allora di quei poemi fu scritto in latino da Jacopo Sadoleto il quale lo dedica al Papa di cui vedete un famoso ritratto di Raffaello e si incentra sul tema del dolore io ve lo leggo non in latino ma vi leggo il poema è molto lungo vi leggo due frasi in italiano che dire per primo dice Sadoleto del padre miserevole o dei figli o delle furie dei serpenti delle ferite dei dolori veri nella pietra che sembra morire dalla muta immagine colpisce il petto una pietà mista al tremore gli occhi non sopportano questa morte feroce questa fine crudele spinto dal mostro del serpente dilaniato laocoonte leva un gran gemito e affannosamente alza i suoi lamenti per i figli voi grandi artisti avete dato vita alla rigida pietra scolpendovi figure live figure vive imprimendo vivi sensi nel marmo palpitante in esso vediamo il movimento l'ira il dolore e quasi sentiamo i gemiti del padre e dei figli dunque un laocoonte che grida un laocoonte che urla un laocoonte che geme quello di Sadoleto a queste letture in termini di forte espressività corrisponde la discussione e la ricerca che cominciò subito nel 1506 sulla vera posizione del braccio destro del laocoonte che mancava a tutti è noto l'episodio forse aneddoto narrato da Vasari secondo cui Bramante avrebbe convinto il Papa a fare una specie di concorso per il restauro del braccio del laocoonte questo concorso avrebbe avuto come giudice supremo Raffaello non abbiamo documentazioni che ce lo confermino ma neanche che lo smentiscano e ci sarebbero stati svariati concorrenti avrebbe vinto Jacopo Sansovino però anche fuori dall'immediato entourage del Papa molti artisti in Italia e fuori sperimentarono le varie ipotesi vi mostro qui due ipotesi estreme l'ipotesi che vedete a sinistra in questa meravigliosa terracotta del Maderno a San Pietroburgo è con il braccio destro drammaticamente elevato in alto e invece il disegno di Amicos Aspertini che vedete alla vostra destra è con il braccio ripiegato sulla queste due varianti corrispondono alle due ipotesi laocoonte grida ed è il braccio alzato l'espressione più forte laocoonte invece tiene dentro di sé il dolore soffre ma tiene dentro di sé il dolore ed è l'altra ed è l'altra ipotesi di fatto dal 1525 in poi la statua fu restaurata secondo la prima e più drammatica ipotesi e ne vedete l'aspetto nella immagine di centro che avete qui mentre il laocoonte di bronzo che vedete a sinistra che è una fusione diretta dal primaticcio per il castello regale di Fontainebleau dove ancora si trova invece rappresenta il laocoonte come fu scoperto cioè senza il braccio destro e con altre lacune dei figli invece poi nel 1906 misteriosamente coincidendo con sospetta cronologia con il quinto centenario della scoperta fu ritrovato il braccio destro del laocoonte e fu ricollocato quindi se voi andate adesso a Musei Vaticani lo vedete come ora sulla destra queste tre opzioni che vi faccio vedere si trovano anche nei bronzetti in piccolo formato qui ne ho raccolti alcuni che avevo esposto tutti insieme in una mostra a Venezia che ho curato due anni fa sono una mostra sulla riproduzione in piccolo della scultura antica dunque abbiamo l'opzione zero del non restauro nel caso della figura in alto a sinistra e poi le opzioni invece che il braccio più o meno alzato o del braccio ripiegato anche un altro filone delle ricerche artistiche si innesca in Italia si sviluppa poi in Europa ed è quello che potremmo chiamare laocoonte diverso dall'antico già nel 1513 come vedete sullo schermo a Varallo Gaudenzio Ferrari rappresenta un Gesù davanti a Pilato e nella lunetta inventa un suo laocoonte molto diverso da quello antico dando al mito un doppio significato da un lato esso colloca la passione del Cristo nell'antichità pagana dall'altro accosta il patos dellaocoonte al patos di Cristo tutt'altro carattere il sorprendente laocoonte scoperto pochi anni fa in Palazzo Leopardi a Roma è stato scoperto da Alessandro Zuccari un laocoonte che sembra giocare su una spiaggia in uno stabilimento balneare un laocoonte acquatico fra giunchini infe tritoni barche che del 1520 circa non è molto ben spiegato questa cosa però si vede già qui come il gruppo viene disgregato viene disgregato e laocoonte si dispone a fianco dei suoi figli ci sono poi altri laocoonti disgregati vi faccio vedere un bronzetto del Bargello una questo sulla destra c'è questo affresco di sabioneta e poi infine in basso un'incisione del Fontana molto importante perché è stato dimostrato da poco che era nella biblioteca di Domenico Teotocopoulos cioè El Greco e contribuisce a spiegare il meraviglioso quadro del Greco che è a Washington National Gallery e che era nella nella bottega anzi nella casa di El Greco quando morì nel 1614 dove si vedono dove si vedono oltre alle figure di laocoonte e dei figli queste due misteriose figure sulla destra che non sono state mai interpretate e sullo sfondo una città col cavallo fuori città che dovrebbe essere Troia ma in realtà è naturalmente Toledo quindi è una attualizzazione del laocoonte molto interessante non solo in Italia dunque si tendeva a rimaneggiare la narrazione della storia di laocoonte mantenendone la temperatura espressiva pur alterandone lo schema iconografico di questo genere è infatti anche il monumentale laocoonte bronzeo di De Frise scolpito nel 1625 per un palazzo di Praga e poi trasportato a Stoccolma come bottino di guerra durante la guerra dei Trent'anni anche in questo caso è un laocoonte diverso dall'antico il laocoonte viene disgregato e ricomposto diversamente dagli sparsi elementi del Cinquecento alle accademie di primo ottocento noi vediamo ancora la stessa storia vedete qui che anche nell'Ottocento nelle accademie venne di moda lanciare concorsi per un laocoonte diverso dall'antico a questa a questa temperie ce ne sono veramente decine uno di questi è quello di Nöllequens sulla destra in terracotta l'altro è quello di Aietz a Brera che fu proprio una prova di Francesco Aietz nell'accademia di Brera questo di Aietz fra le altre cose somiglia molto a un a un a un fresco pompeiano di con la storia di laocoonte in un seminario che avevo fatto il normale su questi temi molti anni fa un mio allievo Giovanni Agosti che era professore a Milano immaginò senza poterlo definitivamente provare ma è molto probabile che Aietz avesse visto il laocoonte pompeiano appena scoperto in un soggiorno napoletano un anno prima di dipingere questo quadro cosa che è probabile ma non certo vediamo ora qui sullo schermo una placchetta del moderno e una scultura di Cristoforo Solari che mostrano una radicale assimilazione e appropriazione di questo prodigioso serbatoio di pathos qui Cristo è laocoonte o per meglio dire laocoonte si trasforma in Cristo in ambo i casi è Cristo che è rappresentato secondo lo schema di laocoonte laocoonte presta a Cristo i suoi gesti i suoi dolori e scrive la rappresentazione dei dolori del Cristo nel più alto registro stilistico in ambo i casi la posizione del braccio rende evidente che l'artista i due artisti diversi avevano intuito correttamente quale era il giusto restauro del braccio mancante dell'aocoonte dunque dal mito pagano si trasferisce alla religione alla rappresentazione cristiana ma non solo perché può tornare ancora indietro al mito al mito pagano come in questo Marsia di Copenhagen di Peter Xaveri del 1650 circa dove si vede chiaramente la traccia dell'aocoonte in questo Marsia che sta per essere scorticato l'uscita inginocchiato dai suoi piedi non so se lo vedete ha un coltello fra i denti e col coltello lo scuoglierà fra poco naturalmente sarebbe molto facile moltiplicare esempi di una tale fusione di una fusione dei dolori dell'aocoonte con la passione di Cristo in particolare a Roma ma io voglio offrirvi qualcosa di più di meno ovvio andando invece a Venezia la coronazione di spine di Tiziano a Louvre dove la memoria della scultura antica anima dall'interno il pathos del Cristo redentore e come vedete in alto nel quadro di Tiziano nella lunetta c'è un busto di Tiberio quasi a collocare nell'antichità la scena del tormento di Cristo con ciò giustificando anche il prestito dal laocoonte anziché commentarlo con troppe parole preferisco leggervi due righe o tre dall'estetica di Hegel dove tre secoli dopo il soffrire in mane del Cristo è paragonato a quello di laocoonte leggo da Hegel è Dio che soffre in quanto è uomo in quanto chiuso entro limiti determinati fu questa una creazione del tutto originale dei maestri italiani il dolore di Cristo non è come in laocoonte una contorsione di muscoli che potrebbe indicare un grido ma negli occhi e nella fronte vi sono tempeste di sofferenza dell'anima onde che si accavallano nel volto quindi questo confronto mostra un discorso di lungo periodo e mostra anche quanto il laocoonte potesse ispirare una discussione sul fatto se la statua se il personaggio rappresentato stia gridando o non stia gridando e possiamo vedere che anche in altre statue di in altri quadri di 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 Tiziano come in questo quadro del Prado l'impronta del laocoonte ci sia ancora naturalmente noi sappiamo che 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 Tiziano fu a Roma nel 1545 e certamente questo questo quadro può essere stato ispirato direttamente dalla visione che lui certamente ebbe dell'aocoonte però a quell'altezza cronologica i disegni e le stampe circolavano molto spesso questa ricerca che trasferiva il volto di laocoonte a personaggi della storia sacra non è limitata agli italiani vi mostro un esempio danese nella cappella di Helsing Her quella di di Amleto eccetera eccetera il pater dolorosus questa volta è Abramo sul punto di sacrificare il figlio sarà un artista danese sarà un artista tedesco certamente in qualche modo qualche traccia del laocoonte gli è arrivato è facile capire come è arrivato il greco attraverso che è vissuto a lungo in Italia che è stato a Roma eccetera è meno facile capirlo in Danimarca ma insomma in una mappa impossibile delle mille derivazioni dell'aocoonte dovrebbe essere presente anche il San Sebastiano di Palencia che vi faccio vedere come l'Abramo che vi ho fatto vedere di Helsing la fortuna del laocoonte si muove dunque fra due poli a un estremo l'impulso a raccontare questo episodio antico con un laocoonte diverso dall'antico cioè mettersi in gara con l'antichità dall'altro lato la tendenza a reimpiegare invece il volto il corpo i gesti del laocoonte rendendoli ancora riconoscibili per altre storie a cominciare da quella di Cristo o di martiri cristiani come San Sebastiano o di personaggi dell'Antico Testamento come Abramo tutte queste immagini hanno però un presupposto comune la lettura del gruppo Vaticano secondo una sorta di grammatica delle passioni dei sentimenti dei dolori di una intensità espressiva in cui il volto dell'aocoonte sembra proprio perché viene da una statua antica molto famosa che è nella casa di un imperatore antico e che è nella casa del Papa ha una capacità espressiva particolarmente condensata quali erano dunque questi elementi linguistici che la scultura antica offriva agli artisti i suoi osservatori più accorti si accorsero molto presto che gli antichi maestri di Rodi avevano rappresentato un ampio ventaglio di passioni non sempre lo stesso pathos ma tre pathes diversi onde suscitare nell'osservatore diverse emozioni Ulisse Aldrovandi nelle statue di Roma a metà del Cinquecento dice di queste tre statue l'una sta in atto di dolersi l'altra di morire la terza di aver compassione quindi attribuisce tre diversi sentimenti in realtà Aldrovandi non faceva che citare indirettamente senza dirlo come avevano la pessima abitudine di citare senza riconoscere il loro debito c'è qualcuno che ce l'ha anche oggi questa pessima abitudine non faceva che citare senza dirlo Pietro Aretino il quale così aveva scritto ecco i due serpenti che nell'assalir tre persone riducono nel suo verisimile la paura il dolore e la morte il fanciullo annodato dal busto e dalle code teme il vecchio morso dai denti duolsi il bambino punto dal veleno muore onde merita più lode per aver saputo esprimere le passioni di cotali effetti dando il primo moto al timore il secondo al patire e il terzo al morire forse il più bel passo sull'Aocoonte è scritto nel 500 come ha scritto Sonia Maffei in quel libro che vi ho citato Pietro Aretino sembra aver compreso meglio di ogni altro il valore esemplare dell'Aocoonte e lo richiama infatti spesso nei suoi scritti in contesti assai vari ve ne ricordo alcuni non tutti perché sono davvero tanti nella vita di Santa Caterina Vergine perché Pietro Aretino scriveva anche Vite di Santi la vita di Santa Caterina rievocando il martirio della Santa al tempo dell'imperatore Massenzio Aretino parla di cristiani torturati gettandoli in una fossa piena di serpenti tal che si vide gli aspidi intenti a divorare le carni cristiane e in che modo le crude bisce avessero conciato le costanti membra dei martiri Laocoonte sculto dalla mandotta dello stile antico sente più dolore essendo sasso che non sentivano essi che erano di carne perché essi erano sia stratti nella certezza del premio che dovevano conseguire da Dio che non si accorgevano del duolo non si accorgevano del dolore quindi il dolore di Laocoonte era più forte il dolore della statua ma l'Aretino cita Laocoonte anche in altri contesti per esempio comparandolo comparando a Laocoonte i dolori di un vecchio in preda alla podagra o in un altro contesto i dolori di un povero che ha fame che muore di fame però il testo più singolare anzi dissacrante imbarazzante da essere citato ma io ve lo citerò superando l'imbarazzo e saltando sulle parti più imbarazzanti ma voi ve le immaginerete e il ragionamento della nanna e della Antonia cioè due prostitute che raccontano scene di erotismo assai spinto che avvengono in un convento un frate con il titolo di generale di quale ordine non viene detto si abbandona un rapporto sessuale particolarmente disinibito simultaneamente con una suora e con un fraticello con un giovane novizio menatosi e dimenatosi mezza ora disse il generale facciamo tutti insieme e tu stupidone mio baciami e così tu colomba mia e tenendo una mano nella scatola dell'angeletta e con l'altra facendo festa alle mele dell'angelone non commento baciando ora lui e ora lei facea quel viso arcigno che a bel vedere fa quella figura di marmo ai serpi che l'assassinano in mezzo dei suoi figli e facea uno stralonare d'occhi un alitare un menare un dibattere che le banche le casse la lettiera gli scanni e le scodelle se ne risentivano come le case per i terremoti dunque il medesimo aretino il quale riesce a capire meglio di tutti il patos dell'aoconte ne fa anche questo uso particolarmente irriverente ora una studiosa tedesca che si chiama Wojciechowski commenta così in questa fantasia che incorpora il laocoonte Pietro Aretino ha immaginato quello che i suoi contemporanei non percepirono consciamente o forse scelselo di non mettere per iscritto le qualità erotiche e sensuali della celebre scultura e in particolare fantasie di penetrazione e di piacere trasgressivo questo potenziale erotico dell'aoconte su cui si potrebbe fare una conferenza molto più lunga di questa sarà reso esplicito in particolare da Fussli nei due disegni famosi che vi faccio vedere in cui una giovane donna davanti alla statua sembra essere reagire eccitata alla nudità del corpo maschile la dama ha un'alta acconciatura un abito elegante e si arresta con questi pugni stretti davanti all'aoconte sembra quasi che l'aoconte venga torturato come ha scritto uno studioso per soddisfare il gusto sadico della donna questo studioso giocava sulla contemporaneità cronologica ma non c'è nessun rapporto fra Fussli e Saad secondo alcuni fu proprio la nudità di l'aoconte che spiega il fatto che Adriano VI il papa olandese che regnò poco più di un anno nel 1522 l'ultimo papa straniero prima di Voitiva era invece a lui l'aoconte non piaceva proprio e se avesse regnato di più forse se lo sarebbe venduto l'avrebbe regalato e comunque non voleva che gli ambasciatori lo vedessero cosa molto ben testimoniata proprio perché la statua era secondo lui scandalosa la condannò la statua scrive Paolo Giovio come prodotta da gente empia in anni non lontani da questi nel 1546 un altro papa Paolo III Farnese fu l'oggetto di dileggio della propaganda protestante nella medaglia che vedete qui in basso in cui l'aoconte cavalca un serpente ne ha vinghiato la tiara papale è usata come il luogo in cui altre figure stanno defecando e la statua che il papa esibiva con orgoglio diventa uno strumento della propaganda protestante antipapale numerosissime sono le parodie dell'aoconte vi mostro quella a destra sullo schermo che risale a un disegno del rosso fiorentino inciso da Gian Giacomo Caraglio l'ha studiata molto accuratamente Eike Schmidt quello che ora dirige gli uffizi la magrezza del corpo il furore dell'urlo che rompe dalla bocca il teschio il sorretto della mano sinistra il drago su cui la figura è seduta sono altrettanti capovolgimenti voluti della misura classica della statua vaticana secondo Eike Schmidt si tratta di una personificazione del furore molto più famosa è quello il l'aoconte scimmiesco diciamo quello che voi vedete che risulta derivata da un disegno perduto di Tiziano ed è chiaramente un'ulteriore testimonianza che Tiziano conosceva il l'aoconte molto bene non si sa bene il significato secondo alcuni sarebbe un'allusione polemica ad Andrea Vesalio il grande medico che voleva superare le conoscenze anatomiche di Galeno secondo altri sarebbe invece un'allusione all'arte presentata come scimmia della natura le parodie dell'aoconte si contano a centinaia ci sono due o tre persone uno dei quali sono io che fanno collezioni di parodie dell'aoconte io ne ho qualcosa come duecento se ne avete qualcuna mandatemela e sono una spia importante della sua popolarità infatti perché sia possibile rappresentare scene come queste bisogna presupporre che chi le vede riconosca l'aoconte altrimenti non ha il minimo senso in particolare questo è vero delle parodie di contenuto politico una lunga storia che arriva fino al presente e che comincia però in Francia con questa incisione anonima a sinistra e dove l'aoconte allude alle trame ministeriali la litografia di Domier al centro del 1868 e si illustra la situazione politica del Regno Unito trasformando l'aoconte in Britannia diraniata da tre serpenti la questione romana il fenianismo e la questione orientale a destra abbiamo invece Le Sifflet 1977 in cui la Francia della Terza Repubblica è il laoconte moderno tormentato dagli sfruttatori non vi ho portato un'altra di queste parodie molto interessante che vi posso solo descrivere Nixon con i nastri del Watergate come laoconte che si agita tutto circondato da questi vi mostro però un laoconte con i reumatismi qui a sinistra per una propaganda in una rivista medica tedesca a destra e il cittadino tormentato dalle tasse a sinistra sono due modi scherzosi di usare la fama del laoconte questa memoria culturale europea ossessionata dall'impulso ad analizzare lo spettro espressivo dei dolori dellaoconte comportò un dialogo fitto fra le arti figurative riflessioni filosofiche esperimenti medici come ho già detto appartengono a questa storia anche alle due versioni del restauro del braccio destro dellaoconte o teso verso l'alto in una specie di enfatico urlo gestuale o invece ripiegato in un contenuto in un'espressione più contenuta dei sentimenti vi cito qui ora una ricerca medica e fisiologica condotta nel 1856 da un neurologo francese di Huchende Boulogne con l'ausilio della fotografia questo neurologo scelse il volto dellaoconte come pietra di paragone per i suoi studi sui movimenti dei muscoli facciali in un modo che non credo che la moderna ricerca medica almeno spero che la moderna ricerca medica non approverebbe questo antico medico a metà dell'Ottocento prendeva i suoi pazienti di un ospedale psichiatrico li tormentava con delle scariche elettriche fotografandoli e poi paragonava l'agitarsi dei loro muscoli con quelli dellaoconte quindi voi vedete a sinistra il laoconte antico nel mezzo questo povero vittima che viene tormentata dal medico e a destra il risultato il laoconte corretto il laoconte diciamo così physiologically correct fisiologicamente corretto elaborato da Duchenne de Boulogne questo esperimento non avrebbe avuto luogo io credo senza l'accesa discussione che si era svolta nel settecento in tutta Europa ma specialmente in Germania su un tema che può ben riassumere il destino del laoconte fra narrazione e forma fra patos e icona si chiesero allora persone come Winkelmann Goethe Lessing Schopenhauer ma il laoconte sta urlando o no grida o non grida grida oppure trattiene la voce ed esprime lo spasimo solo mediante il corpo su questo tema ci si è una letteratura vastissima fra cui due o tre articoli in particolare di studiosi tedeschi ma anche di un italiano Federico Vercellone che insegna estetica a Torino una risposta a questa domanda ormai antica viene da un'immagine quasi altrettanto famosa dell'aoconte l'urlo di Monch mostro qui la sua redazione più antica che è del 1893 secondo uno studioso norvegese Bjerke cito sia per Winckelmann che per Lessing quello dell'aoconte è un urlo ma un urlo trattenuto secondo Winckelmann perché urlare sarebbe al di sotto della sua dignità secondo Lessing perché la sua rappresentazione andrebbe oltre l'ambito delle arti visive la risposta di Monch e di altri suoi contemporanei è una risposta estetica quello che si era ritenuto non bello per lui contiene di fatto la quintessenza della bellezza la vita stessa nei suoi vari stadi l'urlo vero e proprio nelle sue varie fasi insomma secondo questa interpretazione che altri studiosi norvegesi ma non solo hanno approfondito l'urlo di Edward Monch sarebbe una reazione al laoconte del primo secolo avanti Cristo o se vogliamo una sorta di antilaoconte del tardo ottocento e gli italiani gli italiani sono un po' meno creativi perché in questo caso come vedete il laoconte è molto riconoscibile però la presenza del laoconte nell'arte italiana continua e ci sono numerosissimi casi di questo tipo ma per parlare del laoconte oggi vorrei cominciare con questo laoconte esploso a Cornell dove c'era una vasta a Cornell University dove c'era una grande raccolta di calchi in gesso come un po' dappertutto in America ma non solo questi calchi in gesso sono stati buttati via o distrutti recentemente gli archeologi e gli storici dell'arte del luogo hanno un frugato nei magazzini e hanno trovato un laoconte già fatto in pezzi e lo hanno ripresentato così allora questo laoconte esploso ci induca a fare quest'ultima domanda finale con cui finirò in che misura è utilizzabile ancora oggi la formula espressiva del laoconte in Italia ma anche molto lontano in Cina e in Giappone come l'abbiamo noi e gli altri trasformata nel tempo quanto è ancora riconoscibile o è veramente così esploso in questo modo nell'arte dei tempi a noi più vicini il rimando a laoconte si muove come vi ho già detto fra la citazione letterale e la reinvenzione radicale vi mostro per esempio questo disegno fatto a penna biro da Alberto Giacometti un esercizio che in sintonia con il suo stile abituale che ben conosciamo prosciuga ed esalta la potenza patetica della statua antica accrescendo la forza dinamica delle sue linee al suo fianco vi mostro questa recente scultura di Patrick Alò che credo sia italiano che è fatta come un loco-onte fatto di pezzi di macchina come se fosse un loco-onte quasi che fosse una macchina con una implicita poetica dell'objet trouvet dell'oggetto trovato quello che ha lavorato di più in questo senso è uno scultore scozzese che ha nome cognome italiano ma che è considerato da tutti gli effetti scozzese tant'è vero che è persino Sir Sir Edoardo Paolozzi che è morto qualche anno fa che si è occupato del loco-onte più volte vi mostro tre esempi che mostrano il trapasso della citazione del loco-onte alla metamorfosi nel primo a sinistra il loco-onte lo vediamo comparire dietro il parabrezza come se la macchina lo stesse per investire diciamo come se la macchina lo stesse per investire una specie di misa-nabim che rivela il precario equilibrio tra presenza e assenza dell'antico nel mondo contemporaneo nella litografia centrale la litografia centrale non so quanto la vediate con questa luce in ogni caso si è intitolato al Duomo di Colonia e all'interno si vedono si vede un bombardiere americano si vedono macchine di varia natura e anche il loco-onte frammenti dell'esperienza del passato che Paolozzi ha ridefinito per il presente come oggetti di un museo ideale infine il terzo loco-onte sappiamo che loco-onte perché lo dice il titolo altrimenti non ce ne accorgeremo mai il titolo è verso il nuovo loco-onte che allude a un celebre saggio di Clement Greenberg towards Newer laocon del 1940 che influenzò l'espressionismo astratto insistendo sull'idea un saggio molto famoso in particolare nei paesi di lingua inglese dove Greenberg che ha in quei paesi una fama paragonabile a quella che so io di croce nella nostra cultura di quegli anni Greenberg insisteva sull'idea che l'arte contemporanea può prescindere da ogni tradizione letteraria al contrario il loco-onte di alluminio di Paolozzi è un assemblage di objets trouvés in una fabbrica abbandonata che rimanda all'equivalenza di parole e scultura e rilancia e legittima il paragone delle arti a questo discorso si sono rifatti invece si rifà invece a Greenberg e a Paolozzi una mostra di dieci anni fa a Londra proprio che si chiama come vedete dal titolo della copertina del catalogo di questa mostra che vedete qui a sinistra si rifà proprio a Greenberg e che era una mostra di svariate rielaborazioni della oco-onte nell'arte antica anche quella di destra che è una specie di quasi percorso intestinale direi quasi della oco-onte e vuole rappresentare la sofferenza il dolore le viscere di un'anatomia del pathos a metà strada fra l'uomo e la macchina ma cosa succede della oco-onte sulla scena globale del nostro mondo intriso ancora di cultura classica che però non vuole ammetterlo vi mostro tre esempi molto recenti il primo in linea con numerosi esempi precedenti il primo credo che venga dal movimento 5 stelle ed è il cittadino nella fattispecie italiano tormentato dalle tasse quello di centro invece è cinese sembra rivelare una totale incomprensione del racconto del laoco-onte se questo artista cinese se la ride mentre mima il laoco-onte con i suoi figli e noi possiamo dire i cinesi sono talmente lontani che non capiscono la storia di laoco-onte ma più lontani ancora sembrano essere gli italiani visto che in questa reclame Montclair sulla destra il laoco-onte viene usato sostanzialmente come appendi abiti per una giacca a vento qui del laoco-onte non importa né il mito o nella forma ma solo il riferimento a qualcosa di noto che possa servire come appendi abiti il laoco-onte di questo manga giapponese che si chiama Terme Rome e che è fatto in latino super maccheronico e che è rappresentato insieme con altre statue antiche ci dà la chiave di un mondo di schemi vuoti che restano nella nostra memoria culturale come fossili o relitti in un gioco postmoderno in un gioco combinatorio postmoderno ma non è sempre così e vorrei finire con un esempio invece significativo e italiano anzi sardo un mural su una casa di campagna presso Orgosolo in Sardegna che ha varie fasi sappiamo che fu dipinto da Francesco del Casino che non era che non è sardo perché credo che sia toscano vivi a Siena con i ragazzi della scuola media locale e a varie fasi inizialmente quella che voi vedete qui c'è una specie di laocoonte avvolto nelle spide di un serpente su cui c'è scritto capitalismo vicino intorno c'è una scritta che all'origine era vive il governo delle astensioni che ci dà lavoro giustizia e libertà e il terzo governo Andreotti il governo delle astensioni qualcosa che somiglia alle larghe intese a noi oggi più familiari un governo di soli DC con l'appoggio esterno del PC e di altri partiti questo nel 1978 qualche anno dopo già il governo delle astensioni che fu nessuno sapeva più cos'era e allora lo aggiornano e c'è una data 1985 che è fra le gambe della figura e ci scrivono viva il governo pentapartito che ci dà lavoro giustizia e libertà sulla sinistra voi vedete credo che la vediate intorno a quelle finestre vedete una lunga poesia lunga poesia che vi leggo non abbiamo dubbi ora ridurrete le nostre braccia a manovelle d'acciaio farete battere le nostre tempie elettronicamente con ritmi di produzione distruggerete tutti i nostri muscoli ma noi siamo della pazienza del grano siamo della fede che sposta le montagne il giorno nuovo compagni la terra si alzerà tra gli alti forni con le pietre dei nostri corpi ho molto faticato a trovare l'autore perché qui non sono firmati questi versi ho molto faticato una storia che sarebbe divertente da raccontare di per sé ma non lo farò per non farvi perdere tempo alla fine ho trovato che è l'autore l'autore è un poeta operaio della fabbrica Montedison di Porto Marghera quando l'hanno chiusa si chiama Ferruccio si chiamava ma si chiama ancora perché vivo Ferruccio Brugnaro e la sua raccolta di poesie vogliono cacciarci sotto fu stampata nel 1975 dunque un laoconte operaio un laoconte che protesta contro e che naturalmente questi non sapevano assolutamente nulla del laoconte macchina di Edoardo Paolozzi fatto a Edimburgo non avevano nessuna idea però c'è qui una affinità una affinità molto interessante nel 1993 qui vedete un particolare forse qui si legge la data del 1985 fra le gambe nel 1993 il dipinto murale fu aggiornato e dipinsero un secondo laoconte lì a fianco stavolta più riconoscibile aggiungendo nella parte libera del muro rappresentata laoconte rappresenta ancora una volta la classe operaia e sulle spire del serpente c'è scritto speculazione finanziaria dunque attraverso due versioni dellaoconte e versi di un poeta operaio questi murales offrono uno spaccato della storia recente dell'Italia aggiorniamolo con alcune considerazioni primo il figlio di questo poeta operaio è l'attuale sindaco di Venezia di centro-destra questo non faccio altri commenti questa è la prima cosa seconda cosa nonostante io avessi scritto su questo su questo su questi murales un articolo sul sole 24 ore con tutte le fotografie dicendo perché mi avevano detto io non l'ho mai visto di persona mi avevano detto che stava crollando è crollato è crollato non c'è più non c'è più e però ne hanno fatto un altro nel febbraio di quest'anno hanno fatto un ulteriore laoconte dove c'è scritto non lo leggo bene ma insomma c'è come c'è scritto globalizzazione quindi come vedete qui c'è una sequenza di laoconte e un laoconte che sta ancora lavorando per noi sta ancora lavorando per noi ci sta spiegando come va il mondo la chiusura di Marghera la speculazione finanziaria il governo pentapartito questo e quell'altro e infine la globalizzazione e infine la globalizzazione allora imponiamoci per chiudere questo problema come mai tra le state di arte greca e romana laoconte è oggi praticamente l'unica che opera così da vicino naturalmente possiamo dire anche che i bronzi di riace sono usati per fare propaganda al turismo in Calabria ma è davvero tutta un'altra cosa nessuno verrebbe in mente di far dire ai bronzi di riace votate per il partito tale piuttosto che per il talato o il referendum votate sì votate no il laoconte invece è possibile un laoconte operaio perché io direi che perché la forza iconica di questa immagine come fissata dagli antichi maestri di rodi tutto sommato conserva intera la sua carica espressiva rappresenta in grado estremo quasi intollerabile il patos del dolore virile e non ha rivali in tutta l'arte classica ma neanche nell'arte post classica perché l'interazione energetica fra padre e figli uomini e serpenti le libertà dell'individuo e il volere degli dèi la rendono adatta a incarnare ancora oggi in modo eloquente dei temi di grande attualità dal 40 avanti Cristo al febbraio 2017 per fortuna c'è ancora un filo grazie sono previste domande non lo so se mi fate domande io sono disponibilissimo non so qual è il rituale chi me lo dice domande commenti allora facciamo il coffee break un coffee break non si dice mai di no mentre voi eravate fuori e io mentre alcuni di voi erano fuori e io ero rientrato ho cominciato a discutere di qualche domanda con alcuni singolarmente però mi pare di aver capito che questo sarebbe il momento di qualche domanda da discutere più collegialmente quindi se avete domande fatele anche quelle di si prego c'è una esiste una specie di caso laoconte nel senso di caso di specificità del caso laoconte rispetto agli altri esempi di icone antiche che poi hanno germinato opere successive mi riferisco al Cenacolo o alla Venere di Botticelli o a Primavera Mona Lisa ovviamente la Gioconda insomma che poi sono casi che hanno dato nei secoli fino ad oggi continuamente opere nuove anche la mostra del Vittorio and Albert di Botticelli rimmaginato lo stesso Ercole Farnese della mostra che ha curato lei a Fondazione Prada insomma tante icone antiche che poi hanno continuato nel tempo a germinare se c'è rispetto a questi una specificità del caso laoconte ma dunque io lo lo direi così io direi che per un verso questo rilanciare l'immagine dellaoconte in mille maniere somiglia ai casi che si sono fatti come che so io la Gioconda in un altro senso invece il caso dellaoconte è specifico perché si presta di più a un uso di tipo più non soltanto estetico nella maggior parte degli altri casi l'uso è prevalentemente estetico direi mentre nel caso dellaoconte l'uso è non soltanto estetico ma anche di natura emozionale politica però mentre lo dico mi viene già in mente qualcosa che mi smentisce perché per esempio mi è venuto in mente che la Gioconda che certamente è usata per un uso completamente per un uso normalmente estetico eccetera eccetera c'è un racconto di Ray Bradbury quello che ha fatto Fahrenheit 451 in cui si vede in cui lui dice descrive una scena dell'anno mettiamo 2390 un anno inventato così del futuro in cui tutti sputano sulla Gioconda perché c'è appena stata una guerra nucleare la Gioconda rappresenta l'intera civiltà occidentale che ha portato la miseria e la povertà alla morte quindi anche nella Gioconda si può fare un uso politico certo il laoconte è più frequente questo uso politico quanto alla parodia direi che il laoconte batte tutti fra le sculture antiche forse la Venere di Milo qualche volta rivaleggia però certamente non per ragioni politiche ma per ragioni di altra natura fra le opere di arte greca e romana mentre invece forse rispetto alla Gioconda non saprei chi vince ecco io non glielo so dire però credo che la distinzione sostanziale la linea di distinzione dovrebbe essere questa credo che nella Conte sia statisticamente più probabile oltre alla radice estetica di questa fortuna anche una radice di natura espressiva da un lato e politica dall'altro io direi così ma non sono sicurissimo altre domande approfitto una domanda da non addetti ai lavori ha citato più volte il termine barocco in riferimento alla Conte allora appunto mi spiace se la domanda è eccessivamente semplice mi chiedevo quali sono gli elementi sostanziali di distinzione dal barocco che conosciamo relativo a un periodo specifico e questa stato antica nonostante effettivamente no dunque la parola il termine barocco naturalmente è un termine altamente convenzionale che ha tutta una la sua storia e anche l'applicazione durante quello che noi chiamiamo barocco loro facevano scultura barocca senza saperlo cioè non la chiamavano barocca siamo noi che l'abbiamo chiamata barocca molto tempo dopo quindi è come come si chiama Monsieur Jourdain che faceva chi faisait della prose sans le savoir parlava in prosa senza saperlo ecco quindi è una definizione convenzionale che si applica all'origine con una connotazione più negativa che altro si applica all'origine all'arte diciamo del 600 italiano ed europeo o del tardissimo 500 o in alcuni paesi anche del 700 per analogia questo termine è stato applicato anche all'arte antica per definire quelle province dell'arte antica intendo in senso sia cronologico sia geografico in particolare Pergamo dove l'arte somiglia a questa espressione molto vivace capigliature molto mosse figure molto agitate eccetera eccetera che somiglia a delle espressioni del barocco però voglio dire io tutte le volte che ho usato la parola barocco in questa lezione che avete ascoltato avrei dovuto gesticolare facendo così o cose simili perché ovviamente se l'uso della parola barocco è già discutibile per quello che riguarda il 600 per l'arte antica è soltanto un'applicazione tutto sommato impropria di quello che dell'uso per l'arte più recente è invaso nell'uso io mi sono attenuto a questa ma non vorrei dare un significato eccessivo a questa cosa credo che delle immagini che vi ho mostrato quella in cui si vedevano le sculture diciamo classicistiche tipo Pasitele se i suoi allievi accostate a Laoconte faccia ben capire che c'è uno stile più sobrio più asciutto da un lato e uno stile più mosso più vivace più espressivo dall'altro credo questo vorrei vi restasse nella mente piuttosto che la parola barocco c'è ancora qualche spunto prego la mia più che una domanda è una considerazione che poi lei se vuole può commentare mi ha colpito molto questo discorso che lei ha fatto all'escursus dalla sua ritrovenda ad oggi nel senso che questa espressività questo pathos dell'Aoconte che di fatto rappresenta un urlo che sia liberato che sia trattenuto alla fine a me mi sembra un urlo un urlo di dolore e che forse la sua forza della sua attualità è dovuta proprio a questo c'è questo urlo di dolore che non è che attraversa tutta la storia umana cioè riguarda tutti noi e che quindi in quanto tale più o meno sveffeggiato ma alla fine ce l'abbiamo ognuno di noi io credo che lei abbia colto bene quello che volevo dire concludendo su questi murales di Orgosolo se a Orgosolo hanno aggiornato vediamo quante volte l'hanno aggiornato 1978 una poesia del 75 in cui però la poesia l'Aoconte non si parla 1978 85 93 e poi ora quattro volte l'hanno aggiornato forse addirittura c'è una fase intermedia che non mi ricordo quattro o cinque volte e sempre insistendo sull'Aoconte senza che nessuno gli avesse detto cioè non è che qualcuno li ha pagati io gli ho detto fatemi quella cosa così poi faccio una lezione alla scuola normale in cui ne parlo io cioè voglio dire se questo è è proprio perché l'Aoconte si presta molto più di altre statue antiche a incarnare dei sentimenti che sono che sono ancora nel fondo di noi naturalmente l'elemento interessante è che questa cosa siamo ancora in grado di farla anche con la marginalizzazione crescente della cultura classica ricorrendo a un'immagine classica vuol dire che questa cultura classica l'abbiamo espulsa la stiamo espellendo vogliamo liberarcene vogliamo dire che serve soltanto imparare l'economia in un altro ma in un pezzo del nostro cervello l'Aoconte e Virgilio e le statue antiche eccetera sono ancora là e allora lo scopo quello che volevo il pensiero che volevo suggerire è questo sono ancora là le possiamo usare ci servono non faremo forse bene a capirle meglio studiando un po' questa è l'idea grazie di questo ci sono altre prego tra l'altro una considerazione guardando l'Aoconte con le altre statue romane che sono contemporanee del resto le potremmo rimettere sullo schermo perché questa duplicazione dell'immagine la trovo molto imbarazzante no indietro eccole qua la considerazione che mi viene da fare è sulla tecnica sul modellato anatomico siamo nello stesso periodo però l'interpretazione del gruppo dell'Aoconte rispetto agli altri è molto diversa sì ecco ora il problema grazie molto per aver fatto questa domanda perché questo mi permette di spiegare meglio quello che intendevo dire c'è una concezione c'è una concezione dominante dell'arte antica dominante fra gli archeologi gli archeologi dovete pensare che sono dei poveri sfortunati che a differenza dello storico dell'arte del 500 che ha un sacco di fonti per non parlare dello storico dell'arte contemporanea che ne ha persino troppe e quindi non riesce nemmeno a dominarle l'archeologo non ha una griglia cronologica precostituita quindi la deve costruire per costruire questa griglia cronologica la strada che si è tendenzialmente seguita è quella di immaginare una parabola evolutiva per cui per esempio prima la statua è più ferma poi si muove poi si muove poi si muove e si muove sempre di più oppure prima l'anatomia è più imprecisa poi è più precisa prima è più accurata prima è meno accurata poi è più accurata cioè con un una specie di linea di progresso costante una linea di progresso in costante ascesa questo è una possibilità ma non è dimostrato allora quello che ho voluto suggerire con questo accostamento è che c'è stato un momento in cui a Roma dove questi romani molto bravi a fare la guerra e a costruire sistemi amministrativi di diritto fare le strade gli acquedotti eccetera eccetera di arte non se ne intendevano molto basta leggere Plinio il Vecchio quando cerca di riassumere delle fonti molto più complicate per spiegare un po' chi è Policleto chi è Fide eccetera eccetera allora in quel momento nel momento in cui sapere un po' di arte greca diventa di moda diventa obbligato per le classi più alte cercano di impossessarsi di questa cosa e se ne impossessano per riassunto o con i riassunti tipo quello di Plinio eccetera eccetera o attraverso importando degli artisti greci i quali fanno delle prove per vedere cosa gli piace di più e allora nel 50 avanti Cristo circa gli artisti greci che sono a Roma un po' gli fanno le cose in una maniera e un po' gliele fanno in un'altra maniera e loro quando poi arriva il gusto augusteo arriva Augusto che è una una personalità dominante che vuole imporre un tipo di visione serena pacificata eccetera eccetera allora quel tipo di quella 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 visione anche del corpo umano e della della gestualità e così via diventa la visione che vince mentre invece io credo che sia infinitamente più interessante vedere delle 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 rappresentazioni rivali piuttosto che quella di vedere una linea una linea la in continua evoluzione io non conosco un'epoca della storia umana in cui le cose siano andate in una sola direzione le cose vanno sempre in più direzioni anche la cosa che la domanda che qualcuno mi ha fatto più privatamente prima che tutti rientraste e che io riprendessi questa mia postazione col microfono cioè sul fatto che c'è l'ipotesi che poi di Bernard André secondo cui l'Auconte sarebbe la copia di marmo di un originale di bronzo di cent'anni prima e roba del genere presuppone una linea evolutiva per cui quel tipo di stile di cosa non può essere del 50 perché quello è il tempo che precede l'arte augustea quindi bisogna spingerlo indietro io non vedo nessuna necessità la ragione io credo la strada che ho provato a seguire nel piccolo libro che vi ho citato prima è quella di datare l'Auconte sulla base delle testimonianze epigrafiche che riguardano i suoi tre autori visto che sono quei suoi tre autori sono citati in una serie di iscrizioni anche di natura documentaria nella stessa isola di Rodi di iscrizioni datate incrociando gli alberi genealogici le iscrizioni eccetera eccetera risulta quella data lì quindi io credo che questo sia un dato di fatto sono di quel periodo lì allora cerchiamo di capire se sono di quel periodo lì e se queste sculture quelle altre sculture sono di quel periodo lì cerchiamo prendiamo atto che sono contemporanee e cerchiamo di spiegarcelo d'altra parte il litratto di Pompeo e quello di Cesare non sono forse contemporanee e non sono straordinariamente diversi l'uno dall'altro allora se c'è una straordinaria diversità possiamo dire che Pompeo era cent'anni prima di Cesare impossibile allora così come era diverso il ritratto di Pompeo molto più ellenistico diciamo così molto più barocco se si vuole diciamo così e il ritratto di Cesare molto più asciutto eccetera eccetera molto più pre-augusteo perché naturalmente Augusto si rifà a Cesare non a Pompeo questo non ci vuole molto a capirlo nel così come esiste questa differenza può esistere anche questa allora abbiamo un primo secolo avanti Cristo un pochino meno noioso diciamola così no io insegno lettere non insegno storia dell'arte e quando si fa leggere ai ragazzi in italiano in traduzione al biennio il passo di Laoconte nelle neide sui libri c'è molto spesso la raffigurazione del Laoconte dell'opera scultoria allora volevo chiederle se può suggerirmi qual è il modo migliore di proporre un confronto fra due linguaggi diversi il linguaggio della poesia e il linguaggio dell'arte figurativa che rappresentano la stessa scena in un periodo più o meno contemporaneo e tra l'altro cioè ci sono punti in comune il passo virgiliano è uno dei più patetici delle neide tra l'altro mi veniva in mente a proposito del grido che Laoconte di Virgilio grida c'è il clamor che va ad astra è il clamor ad astra proprio così Virgilio conosce anche il dolore che non grida e ne ha premit corde dolore se lo tiene in cuore è un altro tipo di forza ma perché vuole suggerimenti sa già tutto quello che deve dire questo deve dire questo deve dire questo deve dire no diciamo l'impostare il confronto fra due lingue diverse ecco che raccontano la stessa cosa io le direi questo quello che lei ha detto tanto per cominciare è perfetto e basterebbe anche da solo se vogliamo aggiungere un'altra sfumatura che può aiutare lei sa forse può comunque comunicarlo agli studenti che c'è una grande discussione se Virgilio viene prima o la statua viene prima perché con quella datazione che vi ho detto io io non ne ho parlato ma c'è un bel problema perché coincide con Virgilio che sta lì scrivendo allora si potrebbe credere che Virgilio ha visto il Laoconte e ha raccontato la storia oppure che quelli che hanno fatto il Laoconte hanno sentito Virgilio e hanno fatto la storia e uno potrebbe dire ma l'hanno letto non l'hanno letto lo sapevano sapevano anche il latino erano greci allora se lei vuole veramente insomma farli un po' anche giocare con questo basterebbe dire ma secondo voi viene prima questo viene prima quello e attraverso questo discorso confrontando l'uno con l'altro il dolore l'urlo con non urlo eccetera eccetera allora io credo che li costringa a entrare di più nel testo e entrare di più nella statua credo che questo attraverso questo confronto può essere un modo per anche perché siccome anche gli studiosi più straordinariamente bravi non sanno rispondere a questa domanda se lei lo dice prima non è che è un indovinello per cui alla fine dice no tu hai detto bene tu hai sbagliato no perché non lo sappiamo cosa viene prima allora il fatto di dire non lo sappiamo bene proviamo a discorrerne io credo che dia quella libertà che anche in cui è anche possibile che un che un che un ragazzo si faccia venire delle idee molto intelligenti come a volte nella scuola accade delle volte anche dei ragazzi a me è capitato alla scuola elementare perché ho fatto qualche volta delle lezioni nelle scuole elementari mi è capitato delle volte di sentire delle cose molto interessanti mi viene voglia di raccontarvene una se me lo consentite una volta quando uno di miei figli faceva la quinta elementare e mi hanno invitato gli insegnanti a fare eccetera eccetera e voleva che spiegassi cos'è l'archeologia allora mi sono preparato ho portato dei cocci veri ho costruito una sorta di stratigrafia per spiegare che quello che è più in basso viene prima quello che è più in alto e gli ho raccontato tutte queste cose gli ho spiegato come fanno se lo scavo poi alla fine ho chiesto ma mi facevano qualche domanda poi alla fine ho chiesto ora mi faccio una domanda io ma a cosa serve l'archeologia allora un ragazzino alza la mano e dice serve per farci credere alla storia ma si può dire meglio di così è mai possibile quinta elementare vorrei vorrei aver ora mi è rivenuto in mente dopo molti anni vorrei aver scritto il nome di quel ragazzo e sapere cosa fa purtroppo non so più chi era però insomma è perfettamente possibile anche a dieci anni o qualcosa del genere avere delle intuizioni assolutamente folgoranti come questa c'è ancora qualcuno o ce ne andiamo basta così allora grazie di tutto e spero che sia stato utile grazie a tutti 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 grazie a tutti